Taglio del nastro per il caputo Napoli Pizza Village che trasformerà fino a domenica 7 settembre il lungomare Caracciolo nella più grande pizzeria a cielo aperto del mondo. A inaugurare la manifestazione il sindaco De Magistris e il presidente dell'associazione pizzaioli napoletani Sergio Micu. Il Pizza Village ormai è una realtà consolidata della nostra città e ogni anno si accresce sempre di più in termini di partecipazione, entusiasmo, la pizza è una grande realtà della nostra città, ormai è diventato il Pizza Village un brand internazionale, c'è richiesto da più parti, un grande successo negli Stati Uniti, in Russia, in Giappone, in Europa, in questo modo si esporta la Napoli che produce ed è un bel marchio identitario, quindi noi siamo felici di aver contribuito a questa iniziativa che siamo certi avrà un grande successo, speriamo di raggiungere l'obiettivo del mezzo milione di persone, quindi è un grande obiettivo per la nostra città. L'iniziativa, che gode dell'alto patronato del presidente della Repubblica, vede la partecipazione di 50 pizzerie, che offriranno ai visitatori un menù completo con pizza, bibita, dolce e caffè al costo di 12 euro. Ad arricchire la manifestazione, le finali del campionato mondiale dei pizzaioli, che vedono in gara 500 maestri della pizza arrivati a Napoli da 40 paesi, attesi dagli organizzatori circa 500.000 visitatori. Sul lungomare, nel tratto da Piazza della Repubblica a Viale Dorno, sono stati allestiti 4.700 posti a sedere e 24 casse, per agevolare il flusso di visitatori, che oltre a godersi la pizza potranno divertirsi con gli spettacoli e la musica offerta da Radio Kis Kis Napa.